Con le elezioni europee alle porte, ma soprattutto con le amministrative, che nel 2019 vedranno anche Ferrara al voto e altri importanti comuni della provincia, il popolo della sinistra ferrarese, dopo la debacle delle politiche del 4 marzo scorso, si interroga, fa analisi e valutazioni finalizzate ad un possibile progetto che consenta al PD ferrarese di recuperare i voti in fuga verso il centrodestra e verso il Movimento 5 Stelle. Il confronto, promosso mercoledì sera all'Hotel Lucrezia Borgia dall'Associazione Culturale e Democratica di Ferrara, associazione vicina ai militanti dell'ex PDC di Oliviero Dilberto, aveva come ospiti l'architetto Pierluigi Cervellati, il professor Bruno Poggi, docente di comunicazione politica presso l'Università di Studi Internazionali di Roma e l'ex sindaco di Ferrara Roberto Soffritti. Dati alla mano, Bruno Poggi ha messo a confronto due consultazioni elettorali ferrarese, il 1995 con il 2018, l'ultima elezione comunale che ha portato alla carica di sindaco di Ferrara Roberto Soffritti e le politiche del 4 marzo scorso. Scopo del confronto? Mettere nero su bianco i numeri che illustrano la perdita di consenso delle coalizioni di centrosinistra e dei due partiti, PDS e PD, nell'arco di 23 anni a Ferrara. In 23 anni il centrosinistra ha perso 34.000 voti, ha detto Poggi, con un calo annuale di 1.500 voti, come dire che ogni giorno in questi 23 anni quattro ferrarese hanno voltato alle spalle all'area politica al governo della città da sempre, seppure con le trasformazioni operate dall'ulivo e dalla nascita successiva del PD. Fra i dati emersi, la certezza che i giovani non votano centrosinistra è un terremoto all'interno di comunità dove la sinistra è un radicamento storico. Italo Cariani, segretario dell'associazione, che ha passato in rassegna le criticità a livello locale, ha individuato nella difficile gestione del fenomeno migratorio e della fibrillazione in Aragad, nel crack di Carife, nel dramma degli azzerati, ma anche nella mancata politica di sostegno all'edilizia ferrarese e al malumore prodotto dall'introduzione delle calotte di era, le principali cause della disaffezione. Non ha dimenticato, però, gli aspetti positivi, la ricostruzione prossisma, le politiche della cultura del turismo, il sostegno ai cittadini più disagiati. Cose buone, ha detto, ma evidentemente insufficienti. Secondo l'architetto Cervellati, che ha portato un punto di vista bolognese e regionale, al PD sono mancate politiche di sviluppo, una pianificazione di lungo periodo del territorio, la rigenerazione urbana portata al sistema. Fra i rimedi suggeriti dai molti interventi, la capacità di riconoscere gli errori fatti, l'ascolto delle ragioni di disagio e di paura di tanti cittadini, la comunicazione di un progetto forte di sviluppo basato sulla piccola impresa, che dia occupazione ed eviti il desertificarsi delle aree urbane, periferie comprese. Forte il richiamo di Girolamo Calò e Massimo Buriani all'identità storica della sinistra, ai diritti al lavoro, alle politiche di contrasto e alle disuguaglianze. La politica è una cosa difficile e impegnativa, non si improvvisa. Ha tuonato nel finale l'ex sindaco Sofretti, soddisfatto per avere smosso un dialogo importante. Sofretti, che abbia asimato la distruzione del Palazzo degli Specchi, di cui ha difeso la bontà del progetto iniziale, travolto poi dall'ombra della mafia, senza detto nessuna responsabilità dell'amministrazione di allora, ha sottolineato, per il futuro, la necessità di una politica che sappia tenere dritta la barra del timone su un progetto forte di città, anche contro il fuoco amico. Grazie.